Cosa vuol dire DNA cooperativo? Vuol dire prestare attenzione ai bisogni di imprese e persone, costruire nuove reti sociali, continuare a sviluppare l'intergenerazionalità delle cooperative che sanno crescere assieme al territorio alimentando il lavoro delle future generazioni. Le persone Per Lega Coop Emilia-Romagna, le persone sono il cuore e il motore attivo della cooperazione, con oltre 2.900.000 soci, oltre 140.000 lavoratori, il 57% di occupazione femminile. Ma la cooperazione, per crescere, deve continuare a essere aperta all'innovazione e al ricambio generazionale. Per questo, l'associazione sceglie di investire nella formazione e nella promozione cooperativa. La promozione cooperativa inizia dalle scuole, con le attività della rete regionale Bella Copia, che coinvolgono gli istituti superiori, e i progetti dedicati all'università, come Bella Copia Impresa University, e Cooperare Conviene. La scuola di alta formazione per manager cooperativi MIC, il Master di primo livello in economia della cooperazione MUEC, e l'Executive MBA della Bologna Business School, sono alcune delle opportunità offerte ai cooperatori. Inoltre, l'associazione organizza numerosi seminari specifici per le cooperative. Il portale web Fare Cooperativa mette a disposizione network e know-how alle nuove idee imprenditoriali. Il sistema regionale offre bandi specifici a sostegno di cooperative innovative, come Culturability e Farmability, per la creazione di start-up ad alto contenuto tecnologico nel settore agroalimentare. In Emilia-Romagna, grazie al contributo di CoopFond, CFI e Finanziari e Territoriali, 14 imprese sono state recuperate dai lavoratori tramite azioni di Workers' Buyout. A me piace pensare che, essendo un socio lavoratore, ora il lavoro è nelle mie mani. La comunità Lega Coop Emilia-Romagna e le leghe territoriali vivono in un dialogo costante con le comunità di riferimento, convinte che nuovi bisogni e nuove domande possano trasformarsi in opportunità di coesione e innovazione sociale. Il 40% dei bambini nella nostra regione frequenta un asilo nido gestito da una cooperativa sociale. Negli ultimi 4 anni sono stati aperti 38 nuovi moderni asili. L'iniziativa Coop Housing ha promosso l'accesso all'alloggio di cittadini immigrati, coinvolgendo attivamente le cooperative di abitanti e quelle sociali. Per rispondere concretamente alle difficoltà della crisi, nel 2013 è nata Fare Mutua, una grande realtà cooperativa che eroga prestazioni sociosanitarie accessibili e di qualità. L'ideazione di forme innovative di cooperazione sarà alla base di un grande cambiamento. Per questo Lega Coop Emilia-Romagna ha aperto il cammino alla creazione di una scuola della cooperazione di comunità. Il modello di cooperazione sociale sviluppato in Emilia-Romagna si è diffuso in numerosi paesi. Oggi la promozione e il consolidamento del cooperativismo a livello internazionale continuano ad essere alla base di importanti progetti dell'Associazione. Lega Coop Emilia-Romagna pensa che fare impresa voglia dire crescere assieme al territorio. Per questo è attiva in numerose iniziative locali e internazionali, sia nelle emergenze, sia nella quotidianità. Sono passati due anni dal terremoto che ha colpito l'Emilia e la regione è riuscita a rialzarsi rapidamente, anche con il sostegno della cooperazione. Grazie al fondo cooperativo Un'ora vale due, sono molte le imprese e i progetti che hanno usufruito di un aiuto concreto. Lo sviluppo del territorio sta anche nel rispetto dell'ambiente. Con il progetto Life Aqua, l'Associazione ha scelto di valorizzare comportamenti virtuosi delle imprese, promuovendo il risparmio idrico nel settore agroalimentare. Internazionalizzare è una delle parole chiave per Lega Coop Emilia-Romagna, che ha in attivo numerosi progetti. Nel settembre 2012, inoltre, è nata Innova Coop, dedicata all'internazionalizzazione e all'innovazione tecnologica delle imprese cooperative. Cosa vuol dire avere un DNA cooperativo? Vuol dire immaginare e costruire il futuro del lavoro, promuovere l'identità cooperativa, costruire progetti di vita e di impresa, allargare gli orizzonti della partecipazione, sostenere i valori della cooperazione, ma anche le nuove possibilità. Perché non dimenticare, social care cooperativi sono natate qui, social cooperativi sono natate in Emilia-Romagna, e hanno spiegato all'interno del mondo, quindi hai già un'inizio in social care, ma altre cose possono seguire in la stessa forma. Quindi hai fatto, solo continuate arrivando con l'innovazione, noi stiamo coppendo l'innovazione, è fantastica. Grazie a tutti!